Unicusano è in crescita, oggi 19 luglio 2013 gli esami di economia, scienze politiche, scienze della formazione e giurisprudenza. Per la proposta formativa del 2013-2014 abbiamo altri corsi di laurea come ingegneria civile, industriale, meccanica, psicologia. Abbiamo la quinquennale di scienze politiche, una offerta formativa che si muove con la domanda che c'è sul territorio di tanti giovani, di neodiplomati, di persone che vogliono attraverso l'apprendimento del nuovo metodo dell'Unicusano laurearsi con semplicità, con notevole risparmio economico ma soprattutto con profitto. Quindi un invito a venirci a trovare negli uffici di Agrigento di via Malzino 32, negli uffici di Favara di via Jugoslavia, negli uffici di Menvi di via Matteotti dove offriamo la possibilità attraverso il Center Learning, il polo didattico, di dare informazioni, di iscriversi e avere una consulenza completamente gratuita. Quindi vi invitiamo a iscrivervi all'Unicusano, una università a portata di Maus. Oggi più di 350 ragazzi danno esami divisi in tre turni e una realtà in continua evoluzione e crescita. In sei anni abbiamo costruito quindi sul territorio questa proposta formativa che ci sembra adeguata attraverso un metodo di apprendimento nuovo, attraverso un collegamento internet con sistemi learning, con formazione a distanza, con video, con un vero e proprio campus telematico che riesce a mettere insieme quasi 14.000 studenti in Italia. Grazie.